buonasera a tutti sono il giornale bentornati su drone battle versioni unificate con la delusione analizziamo l'ultimo docan fest uscito subito il primo docan fest post kk e capiamo perché dico che la delusione allora carissimi amici miei docan fest di cui andiamo a parlare e in prima di tutto vegeta vegeta della namex saga quindi vegeta fuochi d'artificio detta come aveva detto se voglio andare un nome quello che ammazza pui se non sbaglio pg che mi piaceva mi piaceva molto infatti l'ho cercato ho speso un po di stone l'ho anche trovato quindi soddisfatto penso che era da anni che non facevo così fatica a fare un video ho affrontato qualsiasi creatura del gioco morendo in maniera imbarazzante mi sono arreso a usare namex saga oggettivamente mi sono oggettivamente arreso perché non ne valeva più la pena usando namex saga quindi sono andato in maniera più cattiva a usare invece un mero si chiama ma memoria da schifo volte prodigio vabbè prodigio e pg comunque è stato un parto per carità non è pessimo alla radice ecco mettiamola così non è pessimo alla radice però è brutto brutto però è brutto brutto o meglio è lento più lento di quanto pensavo fosse comunque leader planeta namex saga prodigio o diabolico villain villain tre chi è stato 170 per cento mandando i seekers o the dragon balls e più sejan a 200 per cento simpatico ma oggettivamente si può volere ormai qualcosa di più dai personaggi direi e io inizio esigerlo qualcosa in più dei personaggi però namex saga finalmente ha un leader più che buono quindi su questa parte non avrete lamentere passiva quando affrontate un solo nemico si attiverà l'entranza animation la quali gli darà 3 chi è 180 per cento per il resto della fight questa è carina questo è qualcosa di buono è una abilità che dura tutta la fight e lo fa usare praticamente in tutti quanti gli eventi principali o quasi sono davvero pochi gli eventi in cui non avrete efficacia di questa parte della passiva quindi più che buono più che buono attacco di 50 per cento per ogni orb ottenuta con un massimo del 500 per cento quindi a 10 orb finisce la pacchia con questa parte della passiva purtroppo ma vabbè ci può stare non è non è questa la problematica 500 per cento è più che buono cambia un colore run di orb escluso da gl in rainbow 30 per cento di damage reduction e evasione 18 per cento con una orb a gl presa o 5 e più orb diverse prese quindi dovete prendere orb a gl oppure un numero importante di orb così da essere sicuri di avere damage reduction e evasione che non fa mai male ha un ulteriore 30 per cento di evasione 18 per cento di damage reduction quando attacca quindi è preferibile giocare lo secondo e se gli hp sono più del 50 per cento ha un addition superatta di base sempre quindi anche questa cosa molto buona e giusta ma infatti ripeto il pg sulla carta è molto buono molto molto buono 6 hp sono meno del 51 per cento abbiamo 50 per cento di difesa e 50 per cento di critico dal turno dopo carina dopo che vengono lanciati 5 più special cambia tutti tutti gli orb in agl per un turno e dal turno successivo un colore random di orb in agl e scuse le agl abbiamo poi una active che fa danno e aumenta il 50 per cento di attacco e si può attivare quando ti lanciato 4 o più special qual è la problematica che ho con questo pg perché non mi piace cos'è che per me non fa bene lo vedo molto molto lento finché non attiva la active o finché comunque non si iniziano a proccare tutte le parti la passiva è un pg che funziona a strati si può dire a senso di rastrati direi di sì è un pg che funziona a strati cioè voi iniziate e man mano che andate avanti pian pianino dovete migliorare sempre di più arrivando infine a essere un buon pg quando attiva la active tutta la passiva è attiva siete anche calati a 15% hp una volta la inizia a essere davvero buono ma dovete arrivarci dovete arrivarci inizialmente caricherà poco sarà molto mid molto molto mid inizialmente quindi è oggettivamente un problema il personaggio all'inizio all'inizio è un problema non è il personaggio buono che ci si aspetterebbe cioè mi aspettavo fosse molto più forte almeno in una fase iniziale dopodiché per carità migliora incredibilmente diventa davvero buono e comunque un vegeta extreme che linka con un botto di altri pg io mi aspetto l'esa di okugeta che potrebbe in parte di sollevarlo forse credo spero e poi linka bene con molti personaggi peccato non linki bene con non vedo la pageta qua strano però c'è da dire che ci sono tanti pg con cui può linkare più che bene quindi il personaggio schifo no semplicemente sono deluso penso fosse molto più forte e di sicuro un personaggio non saltabile di più più che saltabile non da praticamente quasi nulla un account se no un leader di una categoria che oggettivamente si può anche evitare perché si può utilizzare in altri modi quindi non c'è un effettivo obbligo di averlo manco guardando la categoria stessa e tutto e ci sono alternative più interessanti su un buona parte degli slot che può prendere fuori dai sui team principali quindi detto questo come build additional inizialmente io direi additional e poi andati di critico con gli equip ma più che altro perché questo perché dovete arrivare a quelle quattro special il prima possibile è il punto più importante del personaggio quelle quattro special se lo raggiungete in fretta cambierà tantissimo il gioco in gioco le quattro special il prima possibile vi cambia un botto come gioca mentre di un botto i danni e tutto quanto poi sui team di voi cosa ne pensate se l'avete trovato se non l'avete trovato e noi ci vediamo al prossimo video buona serata